Come vi abbiamo noi sempre anticipato, il Teramo è tornato al Getano Bonolis, con qualche giornata di ritardo sì ma è tornato. Domenica a Teramo Ancona si giocherà allo stadio di Piano Daccio alle 15, ci si augura con una bella cornice di pubblico e con l'arrivo di circa 500 tifosi ospiti. A tal proposito è partita ieri la prevendita sul portale Ciao Tickets presso la sede sociale di Via Delphico nelle rivendite ufficiali. Anche le altre due partite nel mese di ottobre il 23 e il 27 si disputeranno al Bonolis con la Vigor Sendigalia infrasettimanale e il Sora. Questo grazie ad un accordo tra la società del Teramo e il gestore dell'impianto di pagare da parte del presidente Filippo Di Antonio un debito pregresso a rate della passata stagione di 38 mila euro con la ripetizione dell'indebito. Nell'attesa il comune di Teramo sta completando l'iter per ratificare la risoluzione della convenzione dello stadio. Infatti dopo l'approvazione del Consiglio Comunale manca ora il versamento dell'anticipo di 2 milioni di euro dall'ente comune al gestore. L'Agenzia delle Entrate dovrà esprimersi nei prossimi giorni sulla richiesta di chiarimenti arrivata in merito all'aggiunta o meno dell'IVA, operazione che per l'amministrazione comunale fuoricampo imposta. Occorreranno altri 15 giorni circa per la conclusione dell'iter. Per la sfida Teramo Civitanovese del 10 novembre bisognerà capire se il Bonolis sarà effettivamente tornato nelle mani del comune o se il diavolo dovrà sottoscrivere un accordo annuale con l'attuale gestore. Da domani intanto il città di Teramo comincerà ad allenarsi al Gaetano Bonolis. Non saranno disponibili per domenica per problemi fisici Pepe Pavone. Ha svolto invece allenamento differenziato ieri Stefano Degidio ma dovrebbe farcela. Ascoltiamo ora il centrocampista Emanuele Ferraioli. Un altro calcio, un'altra categoria. Abbiamo avuto un paio di partite, passami il termine, un po' ingolfati per capire un attimino questa categoria perché tanti di noi, ma in primis l'ultima volta, sono stati 10 anni fa, ho fatto Serie D ma è cambiata tantissimo. Stiamo facendo bene, abbiamo fatto bene, però questo salto di categoria ci sta facendo capire che sono tutte partite difficili, però noi come gruppo ci siamo, ci siamo sempre stati, ci siamo uniti sempre di più e le soddisfazioni stanno iniziando ad uscire perché le intensità di allenamento sono altissime e vogliamo continuare così.